L'azienda Vinicola Borgo Conventi, cosa avete portato per questo evento? Qua noi oggi abbiamo portato il friulano e lo sardonnay Ficoglio 2007 e l'annata 2016. Hanno una vinificazione in bianco, non vedono legno per tutta la durata e hanno una gradazione alcolica tra i 13,5 e i 14 gradi. Annata 2016, annata buona per la produzione? Beh, diciamo di sì. A livello climatico? Sì, va bene. Qual è il 2017? Come sarà? Si vedrà. Si vedrà, non si può mai sapere in anticipo.